Auguri. Gruppo Banca Carige. Il futuro. Guardiamolo insieme. Da Conad. La tradizione dei presepi è storicamente molto diffusa in tutto il territorio Ligure. Non sorprende affatto quindi che a fianco di chiese e associazioni vi siano anche molti privati che realizzano rappresentazioni della natività con la creazione di vere e proprie piccole opere d'arte. Fra questi presepi merita sicuramente considerazione quella che da diversi anni realizza Marco Rambaldi ad Imperia in zona Pacialla all'interno di una vecchia cantina che si presta a quale naturale e suggestiva scenografia. Il presepe di Marco Rambaldi è realizzato con l'impiego di 950 litri di terriccio, casette costruite in modo artigianale con materiali di recupero, 15 statue in movimento che ripropongono antichi mestieri, 5 giochi d'acqua e ancora pietre levigate dall'acqua appositamente raccolte durante l'anno nell'entroterra. Grazie a tutti! Non mancano effetti speciali quali il temporale, la pioggia e il fumo, un presepe che richiede due mesi di paziente lavoro per la sua realizzazione. Grazie a tutti! 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 Buone! Buone! Buone feste da Conad! Grazie a tutti!